La prima volta che vi abbiamo visti a X Factor a Sony avete avuto una crescita anche lì Poi non mi vengono altrimenti Ce lo studiamo Poi ci mandiamo le foto su Whatsapp Esatto E' principalmente nato da Victoria ma già da due anni fa da quando ci conosciamo Sei il principino del gruppo Sono io Parla poco, riflette per aria sopra il forum di... Non parlava mai Vedere se abbiamo qualcosa in comune, se ne condividiamo qualcuno Secondo voi Alberto è... è stato Premio Nobel, vincitore olimpico o poeta? Sto molto tempo Ma io opto per premio Nobel per la fisica Steve... Non posso La terzino Dovrebbe essere la terza Dovrebbe essere la terza Erano i B.I. di Kiss Milice Peglia d'oro di Pugilato, Seul 1988 Cosa Margaret Primo ministro inglese che ha strappato Storica annunciatrice di Rai 1 Una Cioè se fossimo andati a scuola insieme non lo so Guarda che lo dico eh Vabbè il culetto A bella A bella A bella Che fai? Che fai Ethan? Che fai Ethan? Vuoi provare l'ebbrezza di essere un frontman? Un frontman! Per un giorno Guarda col paravento c'è canti te Ethan Vai canta canta l'inizio della canzone Canta zitti e buoni vai vai 3, 2, 1 Vai canta zitti e buoni Vai canta Ma non ti sembrano un po' troppo larghi questi pantaloni per i tuoi gusti? Per le mie dimissioni Raga non avete capito? Stocco Edgar dei mani Ma non ti sembrano un po' troppo larghi Wow Oh Vic Ma quanto hai spaccato ieri? Beh ho spaccato una circolo Edan Se bucciasse la città Date 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 Io correre Bella matacchione Grazie Un saluto bene Un saluto bene UIS 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 Auguri 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 Sì Sì Dovoli Sì 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 molto importante vittoria alla batteria un applauso pazzesco incredibile a 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 It a B bidet bidet? yes that's why that's too vagabonded what do you do? couple haha con muri talmente potenti che se ci va a vivere dentro